Sì, dove c'è scritto I Macaraion Damosio, sigillo popolare degli Macaristi. I storici ci dicono che in questi luoghi o nelle sue immediate vicine, proprio in queste civiltà quantatine, che si è perpendicata, masseria che esiste nel territorio di Mirabella in Pache. Mirabella è città di Tocco, ma siete folli. La storia è vero, leggente dalla campana di Magdorio Soprano. Mentre nel periodo romano sarà chiamata I Macara. La parola I Macara, questi termini che finiscono in cara, in para, in cara, in para. Giacinto Paternò lo fece costruire tra gli anni 1630-1600. Addirittura prima dei secoli stessi, forse all'epoca sicara, I Macara esisteva. L'unico a parlarne è Cicero. Era la quantità di salme di frumento che entravano in questo materiale. Infatti è dal 1737 in poi che la nostra chiesa subirà, progressivamente e in più fasi, radicali cambiamenti architettonici fino ad assumere la forza. Non c'è solo questo ricordo storico. L'originale progetto urbano, voluto da Giacinto Paternò, si prevedeva due mie principali panorazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.